Piena rappresentanza di genere nelle Regioni Dipinti restaurati grazie al Consiglio regionale In primo piano Sensibilizzare le assemblee legislative per introdurre principi e provvedimenti tali da favorire la piena rappresentanza di genere tenendo conto dei diversi sistemi istituzionali esistenti e l'ordine del giorno approvato dalla conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riunita a Roma ha approvato anche un documento sulle riforme costituzionali In breve Talento, estro e professionalità sono gli ingredienti della mostra Rinascita dello Stile visibile fino al 21 marzo alla Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino L'allestimento è stato curato da allievi ed ex allievi dell'Istituto Superiore Aldo Passoni di Torino Dipartimento Moda e Costume Sono stati presentati i restauri e le manutenzioni dei dipinti della Sala della Colazione di Palazzo Reale a Torino Grazie al contributo del Consiglio regionale e al supporto degli amici di Palazzo Reale è stato restaurato il grande dipinto alla Battaglia di Farsaglia, gruppo di cavalieri antichi e sono stati fatti interventi di manutenzione su altre sei opere La fondazione Savei ha bandito il concorso letterario Racconta il tuo Piemonte Obiettivo del concorso è stimolare la produzione letteraria sull'identità piemontese nelle sue diverse espressioni storica, geografica, economica, sociale e religiosa e anche fornire un supporto operativo e linguistico a chi, abituato a parlare in piemontese, non ha mai osato scriverlo Per la sezione Lingua Piemontese c'è in palio un premio pari a 1000 euro Info e iscrizioni su sito www.piemonteise.it Il materiale è da inviare alla mail concorso letterario chiocciolasavei.it entro il 31 maggio